Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? Questo è quello che sembrava, almeno stando a una foto che ha fatto il giro del web in cui è ritratto insieme a una ragazza mora. A parlarne anche il giornalista Gabriele Parpiglia su RTL1025, la notizia però è stata smentita dal diretto interesse. La donna è Luciana Montò, modella e stylist di origini Napoli. Lei stessa ha condiviso la foto in cui sembrano essere molto insintoni. In diretta Radio Parpiglia ha lasciato aperta la possibilità che il conduttore abbia una nuova compagna. Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? Questa è una foto? Dai ragazze, lo sguardo di lei è proprio il momento del commento è stato pubblicato sul profilo Instagram di RTL, post sotto al quale ha replicato dei commenti anche quello del creator digitale Marco Marfella, conosciuto come il Menestrelò. Ma non è lei. E proprio a questa frase Stefano ha replicato, Menestrello, Parpiglia 1. Una risposta eloquente che lascia intendere che no, non sia lei la nuova fiamma del conduttore, ma che non smentisce la possibilità che lui si sia di nuovo innamorato, o che sia impegnato. Una risposta eloquente. La notizia è ovviamente stata commentata moltissimo e tra i vari giudizi c'è anche quello di Guendalina Canessa, noto volto tv, sì sicuramente non l'ha tradito. Un'esternazione che però non ha ricevuto alcun commento da Stefano, un post condiviso da Luciana Monto Alieno 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 Chiocciola Lussi sotto lineatura Monto, un post condiviso da RTL1025 Chiocciola RTL1025.